che voi stessi avete scelto attraverso Jane Roberts è giunto il momento che voi consideraste tali difficoltà come sfide facenti parte di un'avventura creativa che voi stessi avete scelto una scelta fatta da voi perché è considerata giusta per la vostra giusta realizzazione individuale nell'armonizzare concetti e contraddizioni per voi stessi avete preparato la strada per tanti altri ripeto che vi sarebbe di considerevole aiuto pensare al lavoro più come un'avventura un'eccitante avventura creativa piuttosto che limitarlo nel significato della vostra vecchia idea di lavoro grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti